Ciao, sono Marco e nel video di oggi faremo delle considerazioni finali per quanto riguarda il tema per WooCommerce Porto. Nei video precedenti, che trovi suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, abbiamo visto completamente a 360 gradi questo tema per WordPress, che grazie alla sincronia, alla sinergia con WooCommerce, ci consente di creare un vero e proprio store online in maniera rapida e professionale. Ci siamo soffermati su quelle che sono le demo, particolarità appunto di questo tema, infatti sono state costruite ben oltre 40 demo per quanto riguarda questo tema e per andare a ricoprire tutte quelle che sono le categorie di mercato esistenti oggi e quindi al fine di poter utilizzare questo tema in qualsiasi nicchia di mercato tu o un tuo cliente ti stia trovando. Successivamente, dopo le demo, siamo andati a visualizzare, ad esplorare appunto quelle che sono le future, quindi tutte quelle funzionalità che Porto ci mette a disposizione nativamente, quindi senza l'ausilio, senza la necessità di utilizzare plugin di terze parti, abbiamo già un set di funzionalità che possiamo appunto usare grazie a questo tema. Dopo ancora siamo andati a vedere quelli che sono gli elementi, quindi la possibilità di utilizzare degli elementi già costruiti apposta per noi, grazie anche alla sinergia con quelli che sono i più famosi page builder esistenti oggi, quindi Porto si integra anche con questi page builder, infine abbiamo fatto anche una breve visualizzazione di quella che è la documentazione di questo tema. Ora, a questo punto parliamo un po' di quelle che sono le considerazioni finali e quindi perché bisognerebbe sceglierlo oppure perché bisognerebbe evitarlo. Stiamo parlando di un tema, quindi in versione premium, al costo di 59 dollari per quanto riguarda il prezzo attuale nel momento di questa registrazione, lo troviamo su Timeforest, troverai comunque il link qua sotto in descrizione. Stiamo parlando di un tema per appunto WordPress che lavora in sinergia con WooCommerce e quindi ci consente di utilizzare, di creare appunto uno store grazie a quello che è WooCommerce, diciamo il plugin numero uno per quanto riguarda la trasformazione di un WordPress in un e-commerce, ne ho già parlato anche di questo in altri video che trovo all'interno del mio canale. Abbiamo una varietà di demo praticamente illimitata, nel senso che abbiamo oltre 40 demo per quanto riguarda gli store online e più di 50, 60, 70 demo per quanto riguarda il multipurpose, quindi tutte le altre tipologie di siti web, quindi one page, quindi siti corporate, eccetera. Abbiamo più di 35.000 installazioni attive di fatto di questo tema, quindi è un tema che viene utilizzato parecchio, è un tema che quindi viene costantemente aggiornato, è un tema dove abbiamo la garanzia che sia sempre sicuro, che venga sempre aggiornato, quindi sono dati importanti per quanto riguarda la scelta, non sono soltanto numeri messi lì a caso, ma sono numeri che ci indicano che ci stiamo affidando a un partner di fatto di qualità. Inoltre, come abbiamo già detto, questo tema anche nelle scelte per quanto riguarda eventuali scelte comunque anche future o se non sappiamo bene come orientarci, è un tema che lavora perfettamente con i page builder, quindi abbiamo il pieno supporto per quanto riguarda Elementor, abbiamo il pieno supporto per quanto riguarda WPBakery Page Builder, abbiamo il pieno supporto per quanto riguarda anche Gutenberg, quindi l'editor nativo di WordPress, quindi se non vogliamo utilizzare un page builder, se vogliamo utilizzare quello di WordPress o se utilizziamo Elementor, perché preferiamo utilizzare Elementor, abbiamo la possibilità appunto di utilizzare questi page builder, quindi anche l'estendibilità, il fatto che questo tema si possa andare a incrociare con questi page builder, è un altro dato di fatto abbastanza importante a mio avviso nella scelta di questo tema. Abbiamo poi parlato appunto della libreria, quindi di tutto ciò, di tutti i blocchi, non solo delle demo, ma dei singoli anche blocchi che vengono messi a disposizione con questo tema, quindi noi abbiamo porzioni di blocchi che possiamo inserire all'interno di una pagina in portale con un click e con uno, due, tre, quattro click, quindi con qualche importazione possiamo andarci a costruire delle pagine in pochissimi minuti. Abbiamo inoltre, abbiamo parlato anche delle performance di questo tema, quindi questo tema è attentissimo a quelle che sono le performance, quindi al tempo di caricamento, velocità e dimensioni appunto di questi file, per esempio che vengono caricati all'eliminazione di JavaScript e CSS che non vengono utilizzati. Quindi anche questi sono dati altrettanto importanti, abbiamo visto come si può installare con un semplice click, come si può installare demo, come si può installare il tema e come si possono importare le demo, quindi di fatto noi possiamo installare porto, scegliere una demo, importare la demo, personalizzarla con le nostre foto, i nostri testi, quindi di fatto fare del data entry e avere un e-commerce pronto all'uso. Abbiamo appunto, come abbiamo già detto, ripetuto, eccetera, è un tema che viene costruito intorno a quello che è e-commerce, quindi abbiamo un sacco di opzioni per quanto riguarda la visualizzazione di prodotti, la messa in evidenza di prodotti piuttosto che altri, quindi andiamo a ricoprire con le demo, le varie linkie di mercato, se ancora non ci andasse bene possiamo noi prendere e costruire un sito ad hoc utilizzando comunque questi elementi, quindi abbiamo banner che mettono nel risalto per esempio prodotti o categorie di prodotti o offerte di prodotti, questo l'abbiamo visto nelle demo, è applicabile anche alla singola pagina o al singolo blocco naturalmente. Abbiamo davvero una libreria enorme per quanto riguarda il layout, quindi abbiamo visto layout di ogni tipo, se hai visto un po' di demo presenti nel mio canale, abbiamo visto layout di prodotti a pagina singola, pagina doppia, eccetera e quant'altro, di tutto e di più. Abbiamo poi a disposizione una quantità infinita di quelle che sono recensioni degli utenti che hanno utilizzato questo tema porto, inoltre abbiamo anche un porto vanta un supporto professionale con tutta la documentazione che abbiamo visto prima, abbiamo visto davvero poco nel video precedente, ma è una documentazione davvero completa, davvero che copre a 360 gradi tutte quelle che sono le necessità per quanto riguarda questo appunto tema. Quindi abbiamo documentazione, abbiamo video documentazione, abbiamo tutta l'area di supporto per quanto riguarda i ticket, in più, come abbiamo già detto, ci possiamo anche servire di plugin di terze parti come i page builder, quindi l'esempio di WP Bakery o anche plugin di terze parti per esempio per la costruzione degli slider, quindi slider evolution e a caso, ma non completamente a caso, i plugin che sono stati scelti, che lavorano in sinergia con un porto, sono i numeri 1, quindi stiamo parlando di un elemento, stiamo parlando di un plugin, ci sono molti video presenti sul mio canale, che è un numero 1 per quanto riguarda i page builder di WordPress oggi, stiamo parlando di WP Bakery che è un numero 1, anche questo, per quanto riguarda i page builder, stiamo parlando di slider evolution per quanto riguarda la costruzione degli slider, stiamo parlando anche qua di un numero 1 per quanto riguarda gli slider, insomma, quindi le scelte anche di sinergia con cui il porto è stato costruito non sono totalmente casuali. Abbiamo poi visto anche la possibilità di usufruire quelli che sono gli elementi, quindi i blocchi che ci mette a disposizione porto, quindi noi abbiamo a disposizione una macchina di fatto che ci consente di costruire un e-commerce, che ci consente di avere delle demo già pronte, che si interfaccia con i maggiori plugin, che si interfaccia con WooCommerce che è il numero 1, ci mette a disposizione la possibilità di importare demo intere, ci mette a disposizione la possibilità di importare solo alcuni blocchi, ci mette a disposizione degli elementi, abbiamo visto progress bar, abbiamo visto di tutto e di più, abbiamo visto testimonia, pricing table, abbiamo visto icone, abbiamo visto test, eating animati, quindi quello che ci resta a questo punto da fare e da decidere è soltanto quello di procedere all'acquisto. Stiamo parlando di una cifra fondamentalmente irrisoria, stiamo parlando di 59 dollari e abbiamo in mano uno strumento veramente potentissimo. Bene, io direi che a questo punto una panoramica spero tu te la sia fatta, spero tu sia andato a vedere i video sul mio canale per renderti conto di che cosa abbiamo visto, che cosa abbiamo parlato, che cosa è in grado di offrirci questo tema, porto, e che quindi tu decida se è il tema, se è la soluzione che fa per te oppure no. Detto ciò trovi di nuovo il link qua sotto in descrizione, quindi se hai bisogno di acquistare questo tema puoi procedere direttamente da qua sotto e spero che con questi video ti sia stato più chiaro e più utile per optare per porto come scelta per il tuo e-commerce. Mi auguro che questo video comunque ti sia piaciuto, se hai dei dubbi o se hai delle domande lasciami le scritte qua sotto nei commenti in modo che posso esserti d'aiuto comunque per quanto possibile. Se invece ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo work, su e-commerce, temi, plugin, elementor, di tutto quello che abbiamo parlato, lasciami anche questo scritto qua sotto, perché se magari stavi cercando qualche approfondimento e sul mio canale non lo hai trovato, scrivimelo così magari io posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti un piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!